Il crepuscolo della giornata, siamo intorno alle 5-5 e mezza, è anche il crepuscolo dell'autunno e il crepuscolo dei funghi. I faggi stanno perdendo o hanno già perso in buona parte le foglie, il vento ha provveduto a velocizzare l'operazione. Qui siamo al pianaccio in fondo, ho trovato un fungo, fa quasi pena, comunque siamo di ottobre, è stata una buona annata, guardate qua che tappeto di foglie, guardate qua che i boschi, guardate qua. Come si alza il vento si vedono ancora cascare delle foglie, stavo cercando di individuarne qualcuna, ma niente, via, le rifaremo.